Si è svolto domenica scorsa a Terme Vigilatore in provincia di Messina il decimo a memoria al Maria Luisa Salamone, gara ciclistica aperta a Juniore, Sallievi ed esordienti di primo e secondo anno. Non sono arrivate vittorie per il team Toscano Giarre che però, come sempre, ha lottato ai vertici riuscendo ad ottenere due preziosi terzi posti. Nella corsa riservata agli allievi su un circuito di 49 km, corso alla ragguardevole media di 39,2 km orari, Francesco Fiumedinisi è arrivato nono. Tra gli esordienti di primo anno, impegnati in una gara di 40 km, Andrea Bruno è invece giunto terzo, mentre si sono distinti gli esordienti di secondo anno, con Alessandro Greco che, nonostante una caduta, è riuscito ad agguantare il terzo gradino del podio, mentre Mattia Romeo, Ivan Brancato, Andrea Marano e Daniele Formica sono giunti rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto. La bella prova di squadra ha permesso al team Toscano di mantenere la seconda piazza nella classifica nazionale esordienti a squadre 2016, con 68 punti. Frutto fino ad ora di quattro vittorie, quattro secondi posti e ben sette terzi posti ottenuti in stagione.